Voi chiedete, diventate cittadini italiani di una realtà nella quale dopo che lavori 35-40 anni e sei cittadino italiano lo Stato ti dice puoi andare in pensione, poi dice no scherzavo, ho scherzato, non mai più in pensione e diventi povero per legge, parliamo degli esodati, poveri per decisione governativa. Oggi se sei cittadino italiano e magari indossi anche la divisa italiana, non vieni tutelato, te ne stai in India dall'altra parte del mondo per 4 anni e i colleghi di queste persone invece sono chiamate parlo dalla marina militare italiana ad andare a prendere i cittadini non italiani a pochi metri dalla riva da cui partono perché insomma noi siamo bravi, siamo buoni, i nostri dopo ne pensiamo fra un po', pensiamo quando non c'è più nient'altro su cui riflettere. Gli altri invece via, traghetto gratuito, venite in Italia, 35 euro al giorno, hotel a tre stelle, state qui un paio di anni, vitto e alloggio garantito, se sei un esodato, se sei un pensionato, se hai la sfortuna di avere in famiglia un disabile, sono cavoli i tuoi, arrangiati cittadino italiano. Prima gli altri, per cui invito veramente tutti a riflettere, soprattutto i genitori di coloro che tramite gli ussoli potranno diventare cittadini italiani sul farlo, non fatelo, lasciatevi cittadini extracomunitari perché qua ve li garantiscono di più gli extracomunitari che i cittadini italiani. Questa è la situazione nella quale siamo nell'Italia del 2015.